buongiorno a tutti bentornati nel mio canale oggi video brevissimo soltanto per dirvi che il corso sui tarocchi di marsiglia sia concluso e questo ve l'avevo già detto nel video precedente però volevo rassicurarvi sul fatto che noi continueremo comunque a parlare di tarocchi sul canale perché io caricherò dei video su questo argomento come sapete un argomento che mi piace che mi appassiona quindi continuerò a fare video in cui parleremo di una serie di argomenti diversi sempre legati ai tarocchi a questo proposito vi invito ad andare a vedere nelle playlist del mio canale perché lì trovate tutti i miei video suddivisi per argomenti perché il mio canale comunque molto vasto ci sono tanti argomenti diversi di ogni genere e quindi è più facile magari per voi individuare quello che vi interessa se andate direttamente a vedere le playlist in queste playlist voi ne troverete una che si chiama la stanza dei tarocchi in questa playlist trovate tutti i video dedicati ai tarocchi adesso non ce ne sono tantissimi perché non ne ho ancora messo così tanti però è una playlist che piano piano si riempirà di contenuti perché io intenzione comunque nel tempo di fare altri video e di andare a metterli in questa playlist se invece vi interessa il corso completo sui tarocchi vi sarà sufficiente andare a vedere la playlist i tarocchi di marsiglia corso gratuito e lì trovate tutto il corso dal primo all'ultimo video quindi avete tutti i video che volete potete andare a vedere tutto quello che vi interessa poi ovviamente sul mio canale ci sono anche altri contenuti che sicuramente se andate a vedere la playlist troverete lì disponibili ho intenzione poi di andare a creare una nuova playlist in cui inserirò tutti i video riguardanti la magia perché ho fatto un video in cui parlavo in maniera molto generica e breve dei colori della magia quindi tutti i vari tipi di magia e mi è stato chiesto di approfondire l'argomento quindi ho pensato di fare una serie di video e di andarli ad inserire nella playlist che chiamerò lo spazio magico quindi se voi andate a vedere nello spazio magico troverete piano piano perché non l'ho ancora caricati quindi li caricherò piano piano però andrete a trovare tutti i video che riguardano la magia e gli argomenti in generale della magia volevo dirvi solo questo quindi vi invito a vedere le playlist del canale ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto mettete un like se vi è piaciuto commentate se avete delle domande commentate semplicemente anche per darmi un feedback io vi mando un bacio enorme e ci vediamo alla prossima